ah ma si vede da di qua ciao 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 3 2 1 3 2 1 benvenuti e bentornanti oggi sarò con trish e la sua egigio rossa volevamo farmi vedere il progettino che ha in mente per questo piccolo cattorcino rosso che in realtà cattorcino poi non è perché in realtà la macchina è tenuta molto bene di base e adesso trish raccontaci racconta trish la storia allora faccio la narratrice e praticamente questa macchina era di una signora di 65 anni unica proprietaria tenuta italia andata sempre in maniera maniacale questa volta davvero no come gli annunci di facebook quindi la macchina è tenuta molto bene per avere 250 mila chilometri adesso è piena di polvere estremamente impolverata esatto però in realtà vista certo di carrozzeria così è messa bene molto bella quindi al momento ha il suo motore originale questa è un eg4 quindi ha un 1500 di 15 b2 giusto di 15 b2 da 90 cavalli con un'iniezione orrenda vabbè un motore che dorme è praticamente tipo il cane che fa la pipì sul muro così sempre esatto e allora ha deciso di fare dei sostanziosi upgrade e facciamo questo video per farvi vedere un po di quelle modifiche che sono classiche tipiche e che si possono fare su questo su questo tipo di civic i cerchi questi bei cerchietti al posteriore di serie ovviamente la macchina ha i freni a tamburo eccoli qua e tamburelli e verranno sostituiti con questi questi bracci posteriori si chiamano trailing arm a disco provenienza civic e g6 ovvero b16 a2 160 cavalli le g vt siccome ovviamente i questi bushings che poi vengono chiamati dagli amici caramelloni sono scoppiatissimi come potete vedere sono proprio distrutti ed è un classico e come vedete c'è un sacco di spazio ed è per questo che gli ho procurato quelli hard race che sono in gomma irrigidita e sono molto più pieni all'interno questi sono molto più esistenti degli originali e vanno benissimo per uso stradale qua ci vanno gli lca posteriori oro della hard race anche loro belli devo dire molto belli molto molto belli fatti bene super leggeri anche però si molto leggeri essendo di alluminio davanti quelli anteriori che questa è una parte perché quelli e g sono divisi in due parti rispetto a quelle k che sono tutto un pezzo unico e qua vi facciamo vedere quello originale completo quindi c'è questo che alla fine non ha niente va va inserito qua dentro quindi si può anche mantenere originale questo ma si va a cambiare questo che ovviamente ha tutte le boccole scoppiate e così via va tutto storto anche qua c'è proprio boccola esplosa questi hard race anche loro gomma rinforzata nuova di pacca all'anteriore invece abbiamo i freni della bicicletta un po come le j9 previs styling non tutte quindi sono da 242 non frenano una mazza il fusello che tiene questo freno da 242 può montare solo il le pinze e i dischi da 242 mentre i fuselli delle versioni che montano di serie i 262 come questi sono di un eg6 l'eg6 monta 262 all'anteriore quindi questo è un disco da 262 questi fuselli possono ospitare anche le pinze integra da 282 l'impianto frenante 282 ci sta solo nei cerchi da 15 quindi una volta fatto questo passaggio i 14 non si possono più usare nel suo caso questi fuselli poi li rivenderemo perché ha trovato un'occasione per questi fuselli con questo bellissimo impianto frenante da 305 mm carapalla in ergal 4 pot brembo in impianto frenante bello generoso questa è una delle modifiche classiche che si fanno quindi sulle civiche che montano i freni da 242 si cambiano i fuselli e si monta o il 262 o 282 o superiore ci sono anche le barre anti rollio anti mio dio posteriore e anteriore sulle g4 normalmente non ci sono come stock e quindi avendo preso tutta la meccanica g6 andremo a mettere anche queste ha delle biellette tra virgolette a questo sistema di attacco orribile in confronto ad k perché k maggiore di g non dimentichiamolo questi anche vengono sostituiti e quindi ho fornito la versione hard race anche loro rinforzati belli nuovi di pacca il camber regolabile biellettine per l'anti rollio anteriore nuova posteriore anche loro nuove tutto hard race quindi questo è il panorama degli abrogate ma lì abbiamo la parte più succosa questo raccontaci cosa hai scelto ho scelto un fantastico b20 di un crv non so di che hanno sinceramente ovviamente prima serie rdu e niente praticamente swapperò con questo motore ma cambieremo la testa con quella del b16 del b18 così andremo siccome è un motore che normalmente non ha v tech andremo ad aggiungerlo e in media di solito dicono che si arriverà a fare 170 180 cavalli il motivo anche di tutto l'upgrade di meccanica è questo esatto e niente quindi giustamente viene adeguata tutta la meccanica perché poi è inutile andare fortissimo bisogna anche frenare bisogna curvare e quindi tutto viene adeguato il motore vi faccio vedere da vicino è un b20 z1 cioè la versione più potente del crv questo è il b20 z eccolo qua non ha il v tech quindi si può vedere da qua che proprio non c'è il solenoide quindi verrà cambiata la testa con la testa v tech si fa un frankenstein gli consentirà di avere un bel motore che comunque un 2000 di cilindrata quindi avrà tanto ciccia sotto esatto anche un bel po di coppia sotto rispetto al 1500 una valanga ma con la testa v tech potrà anche tirare bello alto divertirsi molto anche in alto che è dove a noi ci piace unica cosa saremo un po più limitati con il numero di giri che stai un pochino più più bassi però esatto tanto sotto comunque chiaramente andrà a compensare secondo me sarà molto bello da usare quindi la piccola egigia sta per appropriarsi di tutto questo e quindi insomma questa era la presentazione del progetto per questa eg4 che poi vedremo altri video esatto di farvi vedere come andrà e speriamo di vedere presto come andrà effettivamente poi la macchina quando sarà tutto finito e montato sicuramente saranno tanti 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 è colpa sua la sventolatrice quindi ci rivedremo prossimamente speriamo presto iscrivetevi quindi al canale per seguire poi i progressi di questa macchina se vi servono ricambi come questi potete scrivermi sto anche costruendo pian piano lo shop quindi ci sarà un e commerce tutto dedicato ad onda e non solo e anche quello speriamo di riuscire a finirlo presto ci vediamo in un prossimo video arrivederci grazie ciao